Da lunedì prossimo ci sarà l'accesso automatizzato presso i parcheggi dell'area di risulta di Pescara, un grande risultato fortemente voluto dall'amministrazione comunale, Assessore. Sì, è un risultato raggiunto a tempo record, in tre mesi siamo riusciti a realizzare il primo parcheggio automatizzato nella città di Pescara, per questo ringrazio Pescara Multiservice che se ne è curata, a partire dall'amministratore unico che è qui a fianco a me, tutti gli operatori e da lunedì ci sarà questa novità per i pescaresi che però renderà la vita più facile ai pescaresi, così come accade nei parcheggi degli aeroporti delle più grandi città. Questi 1.400 stalli auto che noi abbiamo a disposizione nell'area di risulta vedranno appunto questa novità, la possibilità quindi di accedere per gli abbonati attraverso una tessera che è stata già consegnata ed è in via di consegna e invece per coloro che non sono abbonati, quindi questo parcheggio al centro del servizio commerciale naturale, poter utilizzare comunque i sistemi di automazione, quelli più evoluti o attraverso un pagamento tradizionale, oppure anche attraverso i sistemi di pagamento contactless, carta di credito, Bancomat, tutto quello che è previsto da Schidata che ha implementato questo servizio. Le tariffe saranno identiche, rimarranno le stesse tariffe di prima e questo è un bel segno, nonostante un investimento importante che sia stato fatto qui, rimarranno anche i parcheggi gratuiti nelle ore notturne, quindi dalle 21 fino alle 8 del giorno dopo e rimarranno anche i parcheggi gratuiti nella giornata di domenica.